Buonasera, mi chiamo Dennis Sturm, sono produttore di vino. Questa volta ho portato dei vini biologici certificati. Siamo tra le prime aziende che hanno intrapreso questo percorso in Friuli. Ho anche la possibilità di fare un raffronto rispetto ai miei viaggi precedenti. Sicuramente quest'anno ho avuto un incremento notevole dell'attenzione, soprattutto per i vini biologici. La strategia secondo me è comunicare attraverso il territorio attraverso le linee autoctoni. Sono molto soddisfatto, anche sotto il punto di vista del supporto degli interpreti e dei traduttori. insomma. Grazie. 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 Grazie.